La Regione è molto attenta a quelli che sono gli eventi culturali del nostro territorio. Quest'anno abbiamo diversi centenari, ricordiamo Mario Rigoni Stern, Zanzotto e non ultimo il nostro Augusto Murer. Augusto Murer che è la rappresentazione di quanto è stata l'importanza di un uomo per un territorio. E ricordarlo in questa mostra Palazzo Fulcis, ma in diversi eventi che poi ci saranno in tutto quanto il territorio provinciale, è compito di tutti noi amministratori e anche e soprattutto della Regione.